Il Cardinale Ardò 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 Saluto i diplomatici, i fratelli e le sorelle di altre confessioni cristiane. Grazie per la vostra presenza e grazie perché in questo Paese confessioni e religioni diverse si incontrano, si sostengono a vicenda. Cardinale Ardò ha detto che qui si vive al confine orientale della cristiantà occidentale da mille anni. È bello che i confini non rappresentano frontiere, che separano mazzone di contatto e che i credenti in Cristo mettano al primo posto la carità che unisce e non le differenze storiche, culturali e religiose che dividono. C'è comune il Vangelo ed è tornando lì all'esorgente che il cammino tra i cristiani proseguirà secondo la volontà di Gesù. Buon pastore che ci vuole uniti in un solo grecia. Saluto a los diplomáticos e a los hermanos e hermanas di altre confessioni cristiane. Grazie per la vostra presenza e grazie perché in questo paese diversi confezioni e religiose si incontrano e si sostengono reciprocamente. Il Cardinale Ardò ha detto che qui si vive in la frontera orientale della cristiantà occidentale da mille anni. E' hermoso che le frontiere non rappresentano frontiere, che separano, ma zona di contatto. E che i credenti in Cristo mettano in prima la carità che unisce e non le differenze storiche, culturali e religiose che dividono. E' hermoso che il Vangelo ed è tornando lì a la fuente, dove il cammino tra i cristiani proseguirà secondo la volontà di Gesù, buon pastor, che ci vuole unire in un solo ruolo. E' hermoso che ci vuole un'e che si rivolgiamo ora alla Madonna, alla lei, maia domina, un garorum, che invocati come reggina e patrona, affido tutti gli ungheresi. E da questa grande città e da questo nobile Paese vorrei riporre nel suo cuore da fede il futuro dell'intero continente europeo, a cui ho pensato in questi giorni, in modo particolare la causa della pace. Santa Vergine, guarda ai popoli che più soffrono. Guarda soprattutto al vicino e martoriato popolo ucraino e al popolo russo, a te consacrati. Tu sei la regina della pace. Infondi nei cuori degli uomini e dei responsabili delle nazioni il desiderio di costruire la pace, di dare alle giovani generazioni un futuro di speranza, non di guerra, una venire piena di culi, non di tombi, un mondo di fratelli, non di muri. Siamo ora a la Virgen, a ella, Maña Domina Ungarorun, a quien invocano come reina e patrona. Le encomiendo a tutti gli uomini. E da questa gran città e da questo noble paese, quisiera confiar di nuovo a su corazone la fe e il futuro di tutto il continente europeo, in cui ho pensato questi giorni e in modo particolare la causa della pace. Santissima Virgen, guarda ai popoli che più soffrono, guarda al vicino e martirizzato popolo ucraniano e al popolo ruso consagrados a ti. Tu sei la regina della pace. infunde in gli uomini e dei responsabili delle nazioni, il deseo di costruire la pace, di dare alle giovani e alle giovani generazioni un futuro di speranza, non di guerra, un futuro pieno di cunas, non di tombi, un mondo di fratelli, non di muri. E noi guardiamo a te, Santa Madre di Dio. Dopo la risurrezione di Gesù hai accompagnato i primi passi della comunità cristiana, rendendola perseverante e concorda nella preghiera. Così hai tenuto insieme i credenti, custodendo l'unità con il tuo esempio, docile e servizievole. Ti preghiamo per la Chiesa in Europa, perché ritrovi la forza della preghiera, perché riscopra in te l'umiltà e l'obbedienza, l'ardore della testimonianza e la bellezza dell'annunzio. E a te affidiamo questa Chiesa e questo Paese. Tu che hai esultato per il tuo Figlio risorto, riempi i nostri cuori della sua gioia. Cari fratelli e sorelle, questo vi auguro di diffondere la gioia di Cristo. Ishten Eltensen, grato per questi giorni. Vi porto nel cuore e vi chiedo di pregare per me. Ishten Azmeg Amagyat Grazie a te, Santa Madre di Dio, Dio, dopo la risurrezione di Gesù, accompagnate i primi passi della comunità cristiana, facendo la perseverante e un'anime in la orazione. Quindi, mantaviste uniti a tutti i credenti, preservando la unità con tuo esempio docile e servizievole. Te pediamo per la Chiesa in Europa, per che encuentre la forza della orazione, per che descubra in te la humildà e la obedienza, il ardor del testimonio e la bellezza del annuncio. A ti te encomendiamo questa Iglesia e questo Paese. Tu che exultaste per tuo Hijo resucitato, llena nostri corazzoni di sua alegria. Queridosi i hermanni, les deseo che difundano la alegria di Cristo. Felicidades. Agradeciti per questi giorni, e le faccio per me. Agradeciti 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 per me.